Un saluto a tutti i lettori della Voce di Asti, io sono Maurizio Campio, 27 anni, sono nato ad Asti, oggi vivo a Torino dove cinque anni fa ho cofondato l'azienda di cui oggi sono amministratore delegato che è farm, che noi ci occupiamo di consegna di farmacia e domicilio. Io quando frequentavo le Asti e ero uno studente non pensavo di farlo imprenditore neanche meno nel settore farmaceutico, però ho imparato che il modo migliore per predire il futuro è creato, lo diceva Peter Drucker in una sua comusissima citazione ed è diventato un po' il mio mantra di vita. Con tanta fame, voglia di esplorare e curiosità è possibile crearsi il proprio futuro, sia con una carriera imprenditoriale, sia con altri percorsi professionali e i giovani astigiani devono credere che diventeranno i migliori nel loro settore e che potranno sempre di più portare in alto il nome della nostra città. Quindi spero la mia storia possa essere di ispirazione per qualcuno e ancora un carissimo saluto. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!